Da Angelo del Mare ad Angelo del Cielo. Sarai un grande lifeguard anche dall'assù. Questa la dedica dei colleghi bagnini a Lorenzo Squillace, morto a soli 18 anni per una sospetta setticemia. Uno striscione, un palloncino a forma di cuore, con il numero della sua torretta, ha accolto l'arrivo del feretro nella chiesa di San Pio X, stracolma di gente, per dare l'ultimo saluto al giovane San Benedettese. Le maglie rosse delle assistenti bagnanti hanno creato due ali attorno alla bara coperta di fiori bianchi. Una comunità commossa e sconvolta dalla prematura scomparsa di Lorenzo. Anche Don Vincenzo Catani, ex parroco, non è riuscito a trattenere le lacrime. L'unica cosa sarebbe il silenzio e far imbombare dentro di sé emozioni, ricordi e tante immagini, ha detto nell'Omelia. Come quella fissa di Lorenzo che ho da bambino, dal suo battesimo a quando portavo la comunione ai suoi nonni e saltava sul divano vivacissimo. Nel Salmo 129, scelto appositamente, c'è la parola grido. Chi di noi in questo momento, gridando, non si chiede perché. Non c'è una spiegazione logica o razionale a questa morte, ve ne solo voglia di gridare per il cuore squarciato. Ma nemmeno la morte potrà separarci dall'amore di Dio. Prima dell'uscita del ferretro hanno voluto salutare Lorenzo, un caro amico di famiglia, la sua fidanzata e il capo scout del gruppo di cui faceva parte. Ognuno con il proprio ricordo di un ragazzo speciale, pieno di energia, un principe dagli occhi azzurri e dai capelli biondi. Increduli e disperati anche i compagni di classe dell'Istituto Geometri di Grotta Mare, proprio domani si sarebbero dovuti rivedere per il primo giorno di scuola, nell'anno della maturità. Fuori, all'uscita dalla bara, sono volati in cielo assieme a lui palloncini colorati e poi un lungo applauso ha accompagnato il rombo dei motori degli amici di sempre.